Con 16 punti personali frutto di 7 attacchi vincenti, 4 muri e 5 ace, Simone Giannelli è stato il best scorer della Diatek Trentino nell'amichevole vinta al quinto set al Palatrento contro Piacenza. Un evento singolare se si considera che il giocatore altoatesino è il palleggiatore della squadra. Trentino Volley TV, grazie al lavoro dello scoutman di Trentino Volley Ivan Contrario, vi propone in esclusiva tutti i punti realizzati in questo video, suddividendoli per fondamentale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.